Dopo l'accorato appello degli agricoltori del Fucino, la Regione risponde. Il vertice in prefettura ha dato i suoi frutti perché la Regione avvierà i controlli per capire se ci sono le condizioni per chiedere lo stato di calamità naturale chiesto dalle associazioni e dalle imprese dopo i danni causati dagli allagamenti dei campi che il Reteotto ha mostrato solo qualche giorno fa. Il Vice Presidente della Regione, Assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente, ha confermato il fatto che gli uffici regionali sono al lavoro. La macchina insomma si è messa in moto per attivare tutte le procedure che poi potrebbero portare alla richiesta di stato di calamità che ad ogni modo va autorizzata dal Governo. I danni mostrati nei campi sono ingenti, ritardi nelle semine, ciò che era già seminato è andato praticamente distrutto. A farne le spese saranno i consumatori che si ritroveranno pochi prodotti e con prezzi alti, vista anche la situazione in Emilia, gli agricoltori locali ovviamente. Dal primo momento ci siamo attivati, sono stati attivati gli uffici, stanno facendo tutte le verifiche del caso per poter creare le condizioni per richiedere lo stato di calamità. Quindi stiamo verificando, stanno facendo tutti gli accertamenti tecnici, ci siamo attivati e ci attiveremo facendo il massimo che è nelle nostre condizioni per tutelare gli agricoltori abruzzesi e gli agricoltori del Fucino. Questa è un'azione che stiamo monitorando e continueremo a monitorare passo passo perché l'attenzione è massima.